Abbiamo oltre 500 ettari di agrumeti che sono sottesi da più di un metro di acqua e chiaramente è totalmente compromessa l'intera produzione del 2018, quindi per le aziende sarà sicuramente un Natale amaro, non solo per le coltivazioni degli agrumi, purtroppo in quella zona era presente anche un allevamento zootecnico che ha perso l'intera mantria, oltre a 400 capi di ovi caprini completamente annegati. Nell'immediato bisogna fare il possibile per alleviare le sofferenze di questa azienda, si deve immediatamente intervenire con la sospensione di eventuali rate di mutuo e finanziamenti, prolungando l'ammortamento di almeno due o tre anni e con la sospensione degli stessi per lo stesso periodo, sospensione anche degli interessi. Stessa cosa vale per i contributi, IMS e oneri fiscali a carico di queste aziende colpite. Non si poteva prevedere questa piena del creativo? Il problema è che bisogna limitare i danni conseguenti a queste piene e come si può fare? con una politica di prevenzione, con delle azioni di pulizia e di cura dello stesso territorio.